Finalmente, per la prima volta in Italia, arriva un compendio su come addestrare il cavallo utilizzando l'Acamore e lo Spade Beat. Il libro, dal titolo Il cavallo californiano Spade Beat, è a cura di Mino Spadaccini, unico depositario italiano dei segreti dell'antica monta californiana. Da grande appassionato qual è di questa arte, Spadaccini ha deciso di raccogliere in un unico testo tutto ciò che ha imparato nel periodo trascorso in California con George Rose, suo mentore maestro, e gli ultimi vaqueros, i detentori di quelle tecniche che fino ad oggi sono state tramandate solo di padre in figlio. Un testo quindi di enorme valore, anche perché il California Style sta tornando in voga sempre più. Un altro punto di forza di questo libro sono i disegni, realizzati dallo stesso Spadaccini, famoso e apprezzato tatuatore. 120 immagini autografate che conferiscono al testo un maggior potere descrittivo ed esplicativo, senza contare le numerose tavole tecniche per imparare a realizzare i nodi del Mecate o come dare forma a un Bosal. Naturalmente, a rendere questo testo ancora più autentico, molti aneddoti dell'autore. Insomma, un vero e proprio va de mecum che tutti gli appassionati di questa monta dovrebbero avere e custodire. lomeda